e lui è aldo e buonasera a tutti caterina caterina sei ancora più bello che in fotografia sono emozionatissimo senti quasi ma è l'americano prego prego grazie grazie di tutto c'è comune se quello è all'endelon io sono philip morris philip morris chi l'attore ma non c'è nessun attore che si chiama philip morris quali sono le sigarette ma è uguale gioco ma uguale cosa annalisa annalisa ma questo vestitino ti sta un incanto valentina valentina sei uno spettacolo è fatto così bello espansivo